Benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Oggi ragazzi è un video di Call of Duty che non riguarderà Call of Duty Perché parlerò di una cosa fondamentale che voglio dirvi anche nel pre-video Così magari per quelli che non vogliono guardarsi Call of Duty lo fanno adesso Ho parlato principalmente del mio secondo canale che non sta andando come speravo E ho provato a fare questa domanda sul fatto cosa fareste voi nel mio caso Aprireste un nuovo canale come secondo dove tutti quelli che vogliono vedere Cose che non sono per forza di minecraft si scrivono Oppure rimanere su quel canale lì e magari cercare di fare un cambio di iscritti Magari non so carico di un episodio sul primo e uno sul secondo Non so cose del genere Scrivetevi nei commenti sono veramente molto contento di fare un video Tra virgolette aperto a voi E domani ragazzi angolo di marci io vi lascio all'intro e al video di Call of Duty Ciao Beh ragazzi sono marci e benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Si ragazzi sono su Call of Duty anche se il titolo non c'entra assolutamente niente con Call of Duty Perché ragazzi Call of Duty fa solo unicamente da sfondo Ma si parlare anche di Call of Duty Allora diciamo che l'argomento principale di questo video lo possiamo dividere in due parti La seconda parte in cui parleremo della partita perché dovremmo riuscire a finire prima di finire la partita E la prima parte riguarda il secondo canale Allora ragazzi io come ben sapete ho un secondo canale che poi era il vecchio primo canale come ben sapete Però ragazzi io penso che quel canale lì purtroppo sia molto inattivo Dico purtroppo perché non è inattivo completamente Nel senso che se io carico Minecraft il canale va ancora più che bene Perché se vi ricordate la One Piece è andata non bene di più Cioè è andata benissimo Cioè 1600 visualizzazioni e i 300 like Sarebbe più o meno la media che faccio ora Però ragazzi la cosa che volevo dirvi oggi era un'altra Sto pensando di aprire un vero e proprio secondo canale Che non c'entra assolutamente niente con questo canale qui che ho io Marci2 E voi direte Marci ma ne vale veramente la pena E questo dovete deciderlo voi ragazzi Perché io voglio portarvi tanti giochi Vorrei portarvi veramente tantissimi giochi Non un gioco e basta Non vorrei stare attaccato sempre e solo a Minecraft Purtroppo però sono quasi obbligato Non sono obbligato perché volendo io posso fare quello che voglio del mio canale Però rendetevi conto anche voi che se io carico un video che non è di Minecraft Il video non viene visto E io cosa posso dire cosa posso fare Cioè cosa fareste voi Io vi rigiro la domanda Cosa fareste voi Io personalmente Io personalmente non Non caricherei video che non sono di Minecraft E questo qui vale appunto per il secondo canale Se avete notato voi il secondo canale Perché non va bene Perché ormai Gli iscritti si sono iscritti per Minecraft E non si sono iscritti per un altro gioco Che può essere FIFA Che può essere Call of Duty Che può essere quello che volete Però non si sono iscritti appunto per questo gioco qui Vediamo se lo becchiamo ancora Ok l'abbiamo preso Non si sono iscritti per questo gioco qui E appunto l'esempio palese è quello del secondo video che ho fatto sul secondo canale Cioè diciamo non è il secondo video Ma è il video che ho caricato più vicino ad oggi Ed è appunto quello della carriera di FIFA Quella carriera di FIFA ragazzi È un esempio palese del fatto che Voi se non è Minecraft non seguite i video Perché il video non è andato molto bene Adesso non mi voglio lamentare Però perché non sono uno che come ben sapete Che ama lamentarsi Però volevo fare questa piccola considerazione Tra virgolette Sul fatto che il video non è andato bene Io voglio farvi questa proposta qua Voi se facessi un canale nuovo Dove caricherei video anche di Minecraft Per carità potrei caricare delle serie secondarie Che sul primo canale magari non caricherei Per esempio Non lo so adesso non mi viene in mente assolutamente niente Però ci sarebbero delle serie Che sul primo canale non caricherei Perché Tu mori o no? Non caricherei perché dico Vabbè troppo Minecraft non vale Una serie così Una custom map Non lo so Sul secondo canale lo potrei benissimo fare E qui arriva il vostro punto Voi Voi se io facessi questo secondo canale Lo seguireste? Cioè mi seguireste su questo secondo canale? In quanti si iscriverebbero? In quanti mi aiuterebbero a ricrescere? A riportare un canale? Non dico 6.000 iscritti Però degli iscritti iniziali Che mi possano dare la spinta Di magari caricare tutti i giorni un road to commander Di caricare Tanti video che a me piace fare ragazzi Perché voi pensate che Voi magari pensate che a me piace registrare solo Minecraft Ma non è per niente così Anzi è decisamente il contrario Io preferisco registrare altri gioci Però registrare Minecraft Non è una brutta cosa Come tanti youtuber fan pesare Io vedo tanti youtuber che fanno pesare il fatto Che si sono fermati su quel gioco Tipo non mi ricordo se Questo mese qua O il mese scorso Vedi un video Di uno youtuber Che faceva prevalentemente FIFA Infatti Come è possibile sta cosa? Voglio vederla sta cosa Ah ok Non la sono mai vista sta cosa Prevalentemente FIFA E lui fa Ragazzi io mi sono stancato Che se io carico un gioco Che non è Che non è FIFA Voi non lo guardate Ma è una cosa che secondo me Non è ovvia di più È ovvio che se uno carica un video Che non è del gioco In cui ha aperto il canale Avrà meno visualizzazioni E questo lo sapete anche voi È per questo che Io ho riflettuto bene E forse Mandarvi sul secondo canale Dove c'era già attive Delle serie Cioè è un vecchio È il canale Diciamo che è il canale dove Nel quale ho iniziato A fare video E secondo me Caricare video Di Che non siano Minecraft Non è giusto Non è adatto Non va bene Non va bene Non è che non è bello Non va bene Perché voi non li guardate E la storia sta qui Io ho pensato di iniziare Su questo Presunto nuovo canale Che può essere Una serie su Call of Duty Che può essere Road to Commander Che potrei anche portare Sul primo canale Nel senso Però non la porterei Tutti i giorni Sarebbe una cosa Abbastanza brutta Perché Road to Commander È bello da finire Non dico in fretta Però quasi Cioè nel senso È figo finire le cose in fretta E avere tante serie Però ragazzi Il mio problema è Ho paura Ho paura di aprire Un secondo canale Che poi Non venga seguito Non venga seguito Cosa vuol dire? Eh Ma ho fatto la stronzata Proprio io Ho fatto una stronzata Grandissima Comunque ormai La vittoria Non arriverà mai E Voi cosa fareste? Io oggi voglio farvi Tante di quelle domande Che veramente Non saprei Da dove iniziare Quindi La mia domanda Fondamentale È questa Se sareste in grado Di riuscire A guardare video Su giochi Che mi piacciono Perché io vedo Vedo in giro Che Tanti ragazzi Fanno Minecraft E riescono a fare Video che non sono Di Minecraft Io ragazzi Ve lo dico Proprio sinceramente Io se non Io video di Minecraft Se non faccio video di Minecraft Cerco di chiamarlo In un altro modo Perché Attira di più E questo qui ormai È risaputo Che Le cose con nomi Diverse Attirano di più E questo qui Lo sanno pure i cani I cani del vicino Che Non possono neanche Parlare Ma loro sanno Questa cosa qui Muori Bastardo Quanti colpi ho? 17 Vabbè basta Io direi di chiudere Sto parentesi Secondo canale Scrivetemi Nei commenti Cosa ne pensate Di questa cosa Mi piacerebbe Tantissimo Un vostro riscontro Positivo Ok L'abbiamo ammazzato Proprio Di forza Grande Sta partita Ragazzi Sta andando Male Nel senso che Prima ho registrato E ho vinto Proprio Ho vinto Però non ho Non ho registrato La Unione Volevo mettervi Il gameplay Di sottofondo Però poi secondo me Veniva troppo Confusionare Non mi piacciono I commentari Sopra video Che non sono belli Tipo Se faccio un 95 1 Un commentare Di sotto ci sta Però in questo caso Non ci sarebbe bene E ragazzi La domanda Ve la ripropongo di nuovo Vi piacerebbe vedere Un secondo canale Che non sia il primo canale Oppure Rimaniamo sul secondo canale Non so Io Ho tante Ho tante idee Nella testa Nel senso che Potrei anche rimanere Sul mio canale Sul mio secondo canale A fare video Però devo avere La sicurezza Che caricando video Costantemente Voi li guardiate Io ragazzi Vi lascio con questa domanda finale Da Marcia è tutto Bella Grazie a tutti Grazie a tutti